L'assessore regionale alla mobilità Silvano Rometti ha illustrato in seconda commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni le modifiche proposte dalla Giunta sulle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea, ovvero i taxi, il noleggio con conducente e i buxi, i pullman fino a nove persone. Il disegno di legge presentato dall'esecutivo di Palazzo Donini propone due cambiamenti alla legge regionale numero 17 del 94. L'età entro la quale gli autisti possono continuare a svolgere il proprio lavoro viene portata da 60 a 68 anni e la revoca dell'autorizzazione non avverrà più in presenza di un avviso di garanzia ma solamente dopo una condanna, sempre che non si parli di reati gravi. Si tratta di modifiche, ha specificato Rometti, sollecitate dalle Camere di Commercio, dalle associazioni di categoria e dalle province.